Un viaggio culinario nella Roma di Marco Gaio Apiccio, un gastronomo dell'antica Roma descritto come amante dello sfarzo del lusso con degustazioni e costumi tipici dell'epoca. Insomma una ricostruzione perfetta di una tavolata d'epoca che l'Istituto Alberghiero di Petimonte Matese ha voluto riproporre attraverso la bravura dei suoi attori studenti e dei docenti che li hanno guidati. Un evento che ha visto anche la premiazione con il cappello d'oro degli imprenditori di successo nel settore della gastronomia davanti ad un pubblico interessato. Presente anche l'assessore regionale al lavoro Sonia Palmeri. Noi a margine dei lavori abbiamo sentito con la nostra Patrizia Diana la preside dell'Istituto Filomena Rossi e il consigliere provinciale Stefano Giacquinto. Preside cosa prevede la giornata di oggi e qual è l'importanza? Oggi è la giornata che conclude quest'anno scolastico tutte le iniziative che abbiamo messo in campo. Quella che vedete è l'ambientazione realizzata con il supporto e la collaborazione attiva e fattiva degli studenti delle seconde classi che hanno lavorato su un ricettario dell'antica Roma, le ricette di Apicio. Quindi c'è la presentazione da parte degli studenti, uno studente per ogni classe sull'attività svolta. Quindi è una presentazione multimediale, segue un'animazione in questa sala e poi a seguire ancora una degustazione, insomma un'esercitazione speciale dei nostri studenti. E all'interno dell'esercitazione speciale la scuola conferisce un riconoscimento a due personalità, cioè una personalità, il Cappello d'Oro che è la sua prima edizione, alla personalità che con la sua professione e il suo lavoro ha contribuito a valorizzare, a promuovere l'economia, la cultura, la storia, le tradizioni e soprattutto la rinascita di aziende del territorio con prodotti che sono stati riscoperti e riutilizzati. Sono previste altre manifestazioni future? Per quest'anno no, partecipiamo come ospiti alla manifestazione Illuminarti e poi chiudiamo l'anno e se ne parla l'anno prossimo con ulteriori attività e iniziative perché ci teniamo al nostro territorio, ci teniamo ai nostri studenti ma soprattutto al loro futuro. Ti spieghi oggi la presenza della provincia qui all'alberghiero? La presenza della provincia qui oggi è con entusiasmo e compassione per questo nostro territorio. La provincia qui è padrone di casa anziché siamo ospiti oggi qui con piacere perché la provincia gestisce gli istituti scolastici dell'intero territorio. Oggi qui si parla di territorio, si parla di sapori e la provincia è sempre presente in questo tipo di attività, di iniziative, quando si parla di territorio, si parla di provincia. Da Piedimonte, Matese e tutto, Patrizia Diana e Lorenzo Applauso per casertasera.it